Vuoi sapere dieci cose per stare meglio, dieci buoni propositi? Primo, svegliati presto, cerca di entrare in armonia con il tempo e con la luce. Seconda cosa, medita, entra in contatto con la parte profonda di te. Tre, visualizza, visualizza, immagina la tua giornata, immagina quello che vuoi, comincia a farlo nascere dentro di te, amati. Tu sei la cosa più importante, amati. Cinque, mangia sano, il tuo corpo è il tuo tempio. Sei, sorridi, sorridere ti fa star bene e fa star bene anche gli altri. Sogna, sogna e realizza i tuoi sogni. Circondati di persone belle, elimina le persone tossiche e tu sai chi sono. Credi in te, credi nelle cose che vuoi. Tu lo sai che tutte le volte che hai creduto davvero in te, ce l'hai fatta, continua a credere in te. E infine la gratitudine. Sei grato per quello che dai e per quello che ricevi. Sentiti parte di questo universo.